Nel corso del fine settimana tutto il bacino del mediterraneo sarà interessato da un robusto campo di alta pressione supportato in quota da un promontorio di matrice africana. Alta pressione che manterrà ben lontano dalla nostra penisola il flusso delle correnti atlantiche, per cui non avremo nessun passaggio di perturbazioni. Per sabato 12 ottobre nel Cilento è previsto cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Tuttavia nottetempo e a primo mattino dense foschie e banchi di nebbia interesseranno le vallate e pianure interne. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, venti deboli meridionali e mari quasi calmi. Domenica 13 ottobre persisteranno condizioni di bel tempo, con temperature dal sapore quasi estivo, relativamente ai valori diurni. Durante la notte e al primo mattino dense foschie e banchi di nebbia interesseranno tutte le vallate e pianure interne, dove l'escursione termica giornaliera sarà accentuata con massime comprese tra i 25 e i 27 gradi e minime sotto i 10 gradi. Per quanto riguarda la tendenza successiva, poche variazioni anche nei primi giorni della prossima settimana, con condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla persistenza del campo di alta pressione, temperature senza variazioni e ventilazione debole. Per maggiori dettagli visitate il sito www.meteosette.it